Regia e pubblicità, per campare, per scelta o nell'attesa? Allora, regia, perché io non mi sono mai considerato un regista pubblicitario, cioè per campare sì, nel senso che ci campo più che bene, però ho sempre pensato che in realtà la pubblicità è un modo di fare cinema, in qualche maniera, con una committenza molto presente, questo sì. Però faccio il regista, poi a volte in pubblicità, a volte in video, un film l'ho fatto, sto per fare un altro, quindi è l'attesa di fare sempre qualcosa di più bello, questo sì. Il lavoro nella tua rinca più ti rappresenta? La risposta che solitamente si dà in questi casi è il prossimo. Nella verità, beh, io potrei dire tutto il lavoro che ho fatto per BMW nella mia vita, che è abbastanza corposo, e poi no, nella realtà tento sempre di rappresentarmi col lavoro che sto facendo, quindi col lavoro corrente, proprio per cercare di sfuggire poi dalle etichette che sempre ti danno, e in qualche modo ti ammazzano e ti sotterrano, per cui sei rappresentato da una certa cosa, quindi sei quella cosa lì. Si tenta sempre di rinnovarsi. E quello che invidi nella reel di qualcun altro? Quello che invidio nella reel di qualcun altro è... Ci sono cose che io ho provato tante volte a fare pensando che, essendo un regista, come ho detto sopra, quindi pensando che un regista può fare più o meno tutto, sì, certo, con il suo taglio, eccetera, ma ti accorgi che ci sono certe cose che invece non sai fare. Io invidio molto chi sa fare bene la comedy, Soprattutto la comedy sofisticata, quella bella, avrei anche dei nomi, vabbè. La creatività italiana vince mediamente poco ai festivali internazionali, ma cosa le manca? Allora, è un discorso annoso. Io penso che manca di storia, manca di coraggio talvolta, ma soprattutto a noi manca il DNA della pubblicità, ci siamo arrivati tardi, abbiamo assorbito dagli anglosassoni un po' le regole del mestiere e non siamo mai riusciti a creare qualcosa di nostro che non fosse a volte un po' provincialotto, se mi posso permettere il termine, e quindi lontano da quello che è l'essenza di un 30 secondi, insomma di un filmato che è più freddura, è meno barzelletta, è più sintesi, è meno... Noi siamo prolissi, guarda io per risponderti quante parole ci mettono, quindi insomma a volte penso che non è proprio nel nostro DNA il fatto di saper fare della bella pubblicità, ma non ce l'ha detto il dottore, voglio dire, i tedeschi non sanno cucinare bene, noi la pubblicità, insomma, ci siamo arrivati anche un po' tardi, va bene così. Dalla pellicola al digitale, una figata oppure si stava meglio quando si stava peggio? No, la pellicola al digitale è la stessa cosa, nel senso che si fanno le inquadrature, col digitale è più possibilità di sbagliare, il che non è per forza meglio, anzi è peggio, con la pellicola ci pensi quattro volte prima di decidere dove mettere la macchina da presa, ma una volta che l'hai deciso, girare in digitale o in pellicola è la stessa cosa, in pellicola è una qualità migliore. Il talento cambia a seconda del passaporto? Cambia a seconda del passaparola, secondo me, no, assolutamente cambia a seconda delle persone. Che fai nel tempo libero? E' averci, nel tempo libero, ho tre figlie, vado al cinema, molto spesso, leggo, mi documento, fondamentalmente lavoro, perché non essendo un lavoro, ma essendo un gioco, nel tempo libero mi alleno a giocare meglio in squadra. Spot, video per il web, brand and content, storytelling, ma è tutto chiaro? Ci si capisce un cazzo proprio, cioè, no, non è chiaro per nulla, è chiaro che secondo me dividere in categorie comincia a diventare sbagliato, c'era questo termine terrificante che andava di modo un po' di tipo fa che liquidità, la comunicazione si è fatta liquida, però è vero, però è vero, una delle cose che più mi fa ridere è quando pensiamo agli spot per il web, che si riducono a essere, le stesse cose che vanno in televisione, ma messe prima di un contenuto che tu vai a cercare su YouTube quando ti compare la scritta potrai vedere quello che hai scelto di vedere fra 20 secondi, e quindi c'è sempre la stessa modalità di comunicazione, ma insomma il web è un'altra cosa probabilmente, e sempre di più le cose si intrecceranno fra loro, non so bene come, è sicuramente qualcosa che dobbiamo ancora capire. Il potere dei no nella tua carriera? Ma allora, il potere dei no, io penso che nella mia carriera, però ti parlo, perché ormai sono piuttosto anzianotto, una volta i no erano importanti, era importante proprio per dare una forma alla propria carriera, però eravamo anche in pochi, e molti di noi, parlo di me, penso di Ago, di Giuseppe Capotondi, abbiamo un po' indirizzato le nostre carriere dicendo no a cose che non c'entravano tanto con noi, ripeto, eravamo in pochi, dovevamo coprire molto mercato, perché si girava anche di più, quindi era facile che ti chiamassero semplicemente perché in quel momento tu andavi di moda, al di là di quelle che erano le tue capacità o le tue voglie, insomma, di fare quel tipo di comunicazione, quel tipo di prodotto. Quindi è stato importante per non confondersi subito nelle cose, appunto, per poter oggi dire io non faccio pubblicità, io faccio la regia, poi se mi chiamano pubblicità sono ben contento di farla, ma faccio le cose che ho voglia di fare, le cose che sento di poter girare, e le cose per cui posso, come dire, proporre la mia visione, ecco. Quindi, oggi le cose sono cambiate, nel senso che siamo in tanti, il che fa sì che c'è un'ottima selezione naturale, per cui difficilmente tu vieni chiamato per una cosa che non è la tua. Cioè, penso che i registi, il numero di registi di Air 3, quando è stata formata anni fa, era infinitamente, era inferiore, insomma, quindi, oggi ci sono registi che penso possono coprire varie aree. E allora, il no diventa quello sul set, quando vieni chiamato per una cosa, e poi alla fine, magari, no, ma il cliente vorrebbe questo, no, ma si dice che, io penso che oggi il buonsenso, come dice qualcuno, però in realtà poi è la chiave. Cosa si potrebbe fare per il mercato della comunicazione da subito e nell'interesse di tutti? Ma, dal punto di vista di un regista è un po' difficile come risposta. Io, un'opinione generale che ho sempre avuto è che in Italia mancano i festival, io sono stato molto felice di vedere il successo che ha avuto, che sta avendo una cosa come IF, perché, perché ho visto che in tutto il mondo, io quando giro in Spagna, in qualsiasi paese, al di là di Cannes, dei Clio, cioè dei premi che tutti conosciamo, ci sono dei festival, dei premi molto importanti in ogni nazione, cioè San Sebastiano, a Cannes, scusami, in Spagna, per esempio, che è un premio molto ambito, cioè fa sì che la carriera di un creativo possa cambiare, insomma, vincere un premio lì, e anche per un regista è una cosa importantissima avere un film che ha una nomination o che vince un premio in questo tipo di festival. Quindi è chiaro che questo alza un pochino il livello della competizione, cioè un po' di competitività ci sta bene, insomma, nel nostro mestiere. quindi più occasioni anche di scambio in questo senso penso che potrebbero essere una cosa utile. Lo ripeto, questa è una risposta che ti avrei dato due anni fa prima di IF, ora abbiamo IF che è un'ottima cosa, speriamo che continui e che vada sempre più in direzione appunto di uno scambio, di una pulita, bella e fruttifera competizione. Se non avessi fatto il regista cos'altro? Allora, io volevo fare da piccolo il prete, poi a 14 anni volevo fare il DJ quindi oggi sarei un produttore di musica elettronica o il papa.